Il giorno rega nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa, l'audizione del Presidente del Centro Studi Internazionali CESI, il Professore Andrea Margelletti. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e nonché sulla web tv della Camera dei Deputati. Salute e do il benvenuto al Professor Margelletti, accompagnato dal Dottor Pierluigi Barberini, analista CESI, desk difesa, e alla Dottoressa Alessia Paolillo, responsabile della comunicazione, che ringrazio per la partecipazione ai lavori della Commissione, ai colleghi presenti e ai colleghi che parteciperanno alla seduta secondo le modalità stabilite all'aggiunta per il regolamento del 4 novembre 2020, ai quali rivolgo l'invito a tenere spenti i microfoni per consentire una corretta fruizione dell'audio. Ricordo che dopo l'intervento del nostro ospite darò la parola ai colleghi che intendono porre domande o svolgere osservazioni, successivamente il nostro ospite potrà rispondere alle domande poste. A tal proposito chiedo ai colleghi di far pervenire fin da adesso la propria richiesta di iscrizione a parlare al Banco della Presidenza. Do quindi la parola al professor Andrea Margieletti. Prego. Grazie signor Presidente, onorevoli deputati, funzionari della Camera dei Deputati, grazie innanzitutto per questo privilegio. Non è la mia prima volta, ma l'emozione è sempre più forte. Questa è la casa degli italiani e quindi io ci entro sempre in punta di piedi. Felice che vi siano rappresentanti così attenti a tematiche difficili, diciamo anche in qualche misura poco avvertite nello scenario nazionale come i temi della difesa. Io cercherò oggi di focalizzare il mio intervento su alcuni aspetti diciamo un po' meno convenzionali, ma chi come lei Presidente mi conosce sa che desidero sempre dare una prospettiva di un certo tipo. E la prospettiva è quella del futuro. Noi abbiamo spinto, diciamo non soltanto in italiani, ma a livello anche nato, che è un po' l'alma mater del nostro sviluppo dottrinale militare, abbiamo sempre spinto sul concetto di jointness, cioè fare di tutto insieme, pur mantenendo naturalmente le prerogative, le tradizioni che sono fondamentali per i militari. Ma è molto cambiato lo scenario. Sarebbe facile dire che gli scenari cambiano sempre, oggettivamente è così, da Teodorico o ad oggi a Svarskow le cose sono cambiate. Ma non sono mai cambiate in maniera così radicale, in maniera così profonda come negli ultimi direi dieci anni. Sono cambiate perché nei secoli per tradizione noi avevamo lavorato su due scenari, quello terrestre e quello marittimo, al quale poi si aggiunse con l'inizio della prima guerra mondiale, quello aereo, attualmente. Leonardo da Vinci ci aveva dato l'occhiata, ma dalla prima guerra mondiale c'è stata un'industrializzazione dell'impiego delle forze aeree, prima come ricondizione e poi come bombardamento. E quindi tradizionalmente la definizione aria, mare e terra è quella che a noi è maggiormente congeniale. In realtà la tecnologia che sarà il centro della mia discussione di oggi è quella che ha cambiato completamente tutto e di fatto sta spazzando via tutto, portandoci a rapportarci con qualcosa che prima nel mondo della difesa, anche nel mondo degli stanziamenti, nel mondo dell'industria, avevamo un po' messo da parte che è il concetto etico. Nessuno meglio di voi che siete onorevoli deputati sa quanto questo abbia un peso. E quindi abbiamo quello che adesso si chiama dominio delle operazioni multidomain, multidominia, e che sono in una sfera fisica percepibile. Io la tocco presidente, lei questa cosa ce l'ha. È una sfera assolutamente non fisica. Io non parlerò soltanto di cyber perché sarebbe sbagliato parlare di cyber, perché è limitante oramai parlare soltanto di dominio cibernetico, ma dobbiamo parlare di dominio virtuale. Ed è per questo che diventa tutto molto difficile, soprattutto per quanto riguarda forze armate che non hanno risorse infinite. Noi ricordiamoci, onorevole buongiorno, ricordiamoci sempre che la stragrande maggioranza del budget alla difesa è dedicato alla componente del personale, quindi in realtà poi quando si parla di capacità di ricerca e sviluppo e capacità di acquisizione i numeri sono ben diversi da quelli che possono apparire all'inizio. E quindi il mondo oramai è sostanzialmente diviso in due tematiche, in due criticità. Da una parte il ritorno del conflitto peer-to-peer, cioè il conflitto con l'eventuale conflitto naturalmente, con le nazioni grandi, con le nazioni che sono simili a noi. E in particolare qua c'è la problematica della Russia. Ricordiamoci che la Russia è intervenuta sia in Crimea che in Ucraina in maniera estremamente intelligente utilizzando una serie di strumenti particolarmente innovativi e dall'altra parte le operazioni nei confronti di minacce meno evidenti ma non necessariamente meno pericolose, che ad esempio è la minaccia del terrorismo. E qua già abbiamo la definizione per un paese che ha un posizionamento molto netto all'interno del mondo, in particolare del mondo occidentale, tra Russia e Cina e l'avversario che si sta sviluppando in maniera sempre più forte nell'Africa subsahariana. Certamente noi avremo una ridda di problemi rilevantissimi da quest'area del mondo, rilevantissimi, con prima di tutto perché non abbiamo ancora compreso l'impatto che avrà su alcuni paesi africani lo sviluppo delle megalopoli, cioè città con 15, 16, 18 milioni di abitanti, con la creazione di periferie immense e con l'emorragia di forza lavoro che continuerà ad arrivare verso l'Europa, con la capacità dei governi di controllare forse una parte di quelle aree, di quelle città, ma lasciando, come posso dire, ad altri il controllo immenso delle campagne. Questo è un problema che noi dovremmo affrontare, perché più si sviluppano, più si abbandonano le campagne, ma senza un processo di industrializzazione forte, maggiore è il grado di povertà che si viene a creare e ancora più ampio è il grado di attrattiva che chi ha il denaro ha nei confronti di chi è passato dall'estero un contadino a essere un cittadino urbano con pochissime possibilità. Teniamo sempre conto che la buona parte di coloro che arrivano sono persone che sono in età da lavoro e quindi io continuo a sostenere che il vero problema anche come minaccia non sia non farli arrivare ma non farli partire. Quindi credo che l'attenzione del nostro paese all'Africa subsahariana debba essere infinitamente più ampio e superare il concetto di proteggere soltanto gli interessi che in qualche misura ho la sensazione che altri nostri alleati europei continuino invece ad avere una visione più di interesse nazionale specifico su alcuni argomenti come ad esempio l'approvvigionamento di risorse per l'industria nucleare piuttosto che fare un'attività di democracy building. Ci vuole tempo, ci vuole molto denaro, ma sicuramente questa è la necessità. Dall'altra parte dobbiamo renderci conto che se noi vogliamo continuare a lavorare ed essere centrali nella Nato, è vero che tutti nella Nato uno conta uno, ma io continuo ad avere la sensazione che gli Stati Uniti contino un filo di più dell'Islando o del Lussemburgo, con naturalmente un tutto rispetto per gli islandesi e per i lussemburghesi. E dato che il mantra americano sarà per i prossimi 25 anni il rapporto con la Cina, io ho la sensazione che l'Italia dovrebbe cominciare a porsi questo problema che non è soltanto un problema di posizionamento. Noi siamo quegli americani, ovviamente, quindi non è un motivo di dialogo, di discussione, ma il punto vero fondamentale è che noi peseremo all'interno di alleanze strutturate, tanto più quanto noi peseremo nel rapporto che abbiamo con gli americani nell'area pacifica. Gli inglesi e tante altre nazioni, una di queste che si sta attrezzando è la Germania, che non mi pare una grande nazione oceanica, però evidentemente hanno una visione a lungo termine, si stanno attrezzando per avere una presenza militare fissa in Asia. Non che questo cambi naturalmente il valore delle cose, ma permette agli Stati Uniti di poter dire, sappiamo di poter contare su un alleato di riferimento. In ultimo vorrei dare una cosa, poi naturalmente vado avanti sui sistemi, arriverò subito ai sistemi sul problema della minaccia liberida, del quale tanto si parla. Noi siamo, l'ultima guerra che ottocentesca forse è stata l'operazione Desert Storm del 1991, cioè l'ultima operazione in cui un Presidente ha detto ai propri vertici delle Forze Armate di che cosa avete bisogno, quali sono le risorse di cui è bisognate e io ve le do. Dopodiché le cose sono completamente cambiate. La minaccia ibrida non è soltanto la minaccia di persone che non indossano l'uniforme, ma è soprattutto il fatto che oramai, prima di partire per un'operazione militare, che come voi sapete è ovviamente all'interno di un quadro politico, nessuno lo sa meglio di voi, è necessario mettere in conto oggi più che mai le attività di propaganda che il nostro avversario è in grado di porre in essere all'interno del nostro territorio nazionale per due scopi, per allargare eventuali faglie di differenza tra alleati e dall'altra parte per togliere supporto alla nascita di una coalizione. E quanto mai opportuno, e questo bisogna dirlo assolutamente senza ipocrisia, non ne sta dotarsi a livello credo nato ma anche nazionale di strumenti, di contro narrativa, che possano efficacemente opporsi a questo tipo di minacce. Perché, signori, un'operazione militare senza supporto non può partire, non può essere condotta, non può andare avanti. E per fare questo occorre non improvvisare su un evento, ma organizzarsi con strumenti che siano assolutamente adeguati. Noi continuiamo a parlare di cyber defense, io mi rendo conto che è molto politically correct, Presidente, se lei me lo passa, ma non esiste soltanto la defense. Noi abbiamo visto migliaia e migliaia di persone in piazza festeggiare la vittoria dell'Italia meritata agli europei, ma non vince un campionato soltanto come Nereo Rocco mettendo un muro di terzini, perché prima o poi inevitabilmente, come posso dire, ti fanno gol. Noi dovremmo pensare anche a strumenti che siano in grado di essere altrettanto efficaci, non solo nella defense, ma anche nell'offense. Perché altrimenti dobbiamo dare per scontato che inevitabilmente, prima o poi, ci faremo male. Come stare vicino davanti al mare e sperare di non bagnarsi ignorando l'esistenza delle maree. Prima o poi la marea ti fa bagnare i piedi. Quando prima parlavo di etica mi riferisco soprattutto a un fatto. Noi siamo abituati a pensare in termini di soldati o soldatesse, come sono fortunatamente arrivate da qualche anno nelle nostre forze armate. Così non è più. Così non sarà più. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che entro dieci anni lo scenario militare sarà, vedrà le forze armate fisicamente interiori. I soldati sono infinitamente meno rilevanti di quanto sono oggi. E una delle ragioni per le quali saranno è presente in questa stanza, cioè siete voi. Voi siete parte del problema, ma contestualmente siete parte anche della soluzione. La perdita di vita umana che è di sempre naturalmente inaccettabile, anche in guerra è diventata più inaccettabile che mai. E la gestione dei caduti e la gestione delle vittime è diventato qualcosa che è anche poco comprensibile se non ci addegguiamo con la contronarrativa da un certo punto di vista. E quindi noi abbiamo il trend futuro, ed è per questo che sono particolarmente lieto di parlarvi, perché sono un po' preoccupato dal punto di vista della dottrina, dal punto di vista di cosa noi concepiamo. Il fatto che voi rischiate di poter essere soltanto dei notai. Vengo qua, io ho questo progetto, questo programma militare, voi lo valutate, timbriamo, diamo il bollino di ok e vada avanti. Forse andava bene qualche anno fa, non più così. Noi dobbiamo renderci conto che il futuro dei conflitti è un futuro dove l'uomo sarà infinitamente meno presente. Se non in alcuni scenari con le forze speciali che avendo una qualificazione, una capacità, una preparazione, una duttilità che altre reparti oggettivamente non hanno, potranno supplire al fatto di non inviare migliaia di soldati perché saranno una risorsa assolutamente preziosa. Come risorsa estremamente preziosa continueranno a essere in quel progetto di creare sicurezza all'interno dei paesi, l'arma dei carabinieri che a mio avviso la speranza è che possa ulteriormente fare un passo in avanti nel supporto alle operazioni di pace, mantenendo la specificità di quello che loro sono bravi a fare. Come naturalmente in questo scenario che è diventato un scenario complesso noi non possiamo più parlare, signori, come parlavamo un tempo, di divisione tra difesa esteri. Quando esteri fallisce in qualche maniera, non i maecci, la politica, la diplomazia fallisce, entrano i soldati. Perché ormai non è più così nessun paese del mondo. Noi adesso i players li dobbiamo considerare tutti e tre e sono difesa esteri ed intelligence. Non immaginare che l'intelligence possa diventare un players altrettanto importante di una forza armata, dandogli un ruolo anche più ampio, vuol dire avere un problema sincero di miopia, Presidente. Perché così è. Perché noi giochiamo ormai in scenari dove la nebbia, the fog of war, è sempre più impegnativa. E quindi noi ci troviamo di fronte al fatto che i sistemi unmaned saranno, saranno, da qui a pochissimi anni, signori, non vent'anni, venticini. Da qui a pochissimi anni. E lo sviluppo tecnologico voi lo conoscete meglio di me, perché basta vedere con quale frequenza noi cambiamo i nostri telefonini. E quanto un telefonino sia diverso da un altro, da una generazione all'altra, da un anno all'altro. Potete immaginare sui sistemi ad alta tecnologia come questi. Pensiamo soltanto alla capacità di colpire molteplici obiettivi, selezionandoli tramite un algoritmo che è infinitamente più veloce di noi, con la capacità di machine learning, cioè di autoapprendimento, senza l'intervento di una persona e senza soprattutto il rischio che qualcuno venga catturato, che qualcuno venga ucciso. Le famose, come posso dire, munizioni, loitening ammunition, che sarebbe forse anche onestamente chiamato, doverosamente chiamate droni killer, perché questo è, poi lì possiamo scegliere il nome, un nome più elegante, però questo è il futuro. Perché vedete, lì c'è scritto wifi eventi user, e poi ovviamente non dico la password, tutti noi siamo connessi, tutti noi viviamo interconnessi. Oltre al 90% del traffico della rete mondiale, è quella che il Presidente ci fa vivere, ci permette di mandarci un whatsapp per dire sto arrivando in ritardo o arrivo in anticipo. E tipo le cose più banali, assolutamente, ma perché la guerra moderna entra non soltanto più nello scenario delle dinamiche tra nazioni, ma entra sempre più nella pervasività dell'individuo singolo, il 90% passa di cavi sottomarini. Benissimo. Possiamo immaginare che una grande nazione mediterranea come la nostra debba proteggere degli interessi sott'acqua? Possiamo immaginare che intelligence e operazioni di combattimento possono essere svolti da sistemi remoti a centinaia e centinaia di metri sott'acqua attraversi sistemi che sono di, come posso dire, UAV, li chiamiamo, UAV subacquei, UV come si chiamano, hanno dei nomi assolutamente terribili, lo sto cercando di italianizzare quanto più possibile. Questo è il futuro e questo noi ci troveremo davanti dopo domani e di fronte a questo noi abbiamo ancora una concezione antica di ci serve questo sistema, ci serve quest'altro sistema e quindi dobbiamo finanziare questo sistema piuttosto che questo sistema. Non è più così. Perché non è più così? Perché noi dobbiamo smettere di pensare in termini di quantità e dobbiamo cominciare a esprimere capacità. È ovvio che per esprimere capacità occorre che voi diciate che cosa devono fare le forze armate e sulla base quello che devono fare devono dotarsi. Ma la cosa che è fondamentale, Presidente, è questo. Noi siamo abituati a fare molto bene una serie di cose. Dal 1982 abbiamo una sorta di costanza di operazioni di supporto alla pace che si svolgono con i nostri uomini e le nostre donne e lo facciamo molto bene. Però io rimango turbato, ad esempio, quando vedo grandi realtà come quella britannica e quella americana in particolare, quindi due realtà a noi assolutamente vicine, che fanno una revisione profonda, intima, anche con delle conseguenze non irrilevanti, del proprio strumento militare. Il fatto che noi abbiamo uno strumento militare che sia sostanzialmente in linea con quello che sappiamo fare, siamo così certi che quello che sappiamo fare sia quello che dovremo fare? Io ho oggettivamente qualche dubbio. Vedo un'assenza di dibattito sugli aspetti dottrinali, sull'aspetto di quello che è il futuro, che non è soltanto, come posso dire, unmanned o manned, e rischiamo di essere tremendamente arretrati, perché vedete, e qua mi avvio verso la conclusione, noi, i conflitti del passato si sono sempre basati su tre pilastri. Il primo, quello degli interessi. Io ho la necessità di conseguire un vantaggio e quindi naturalmente utilizzo lo strumento militare per conseguire un vantaggio. Poi è arrivata una seconda variabile, sia Presidente, e questa variabile è stata la variabile geografica. Io sono posizionato in una determinata maniera, in un determinato luogo fisico e quindi ho la necessità di ampliare le mie risorse. Pensiamo soltanto a quanto ho goduto del proprio isolamento gli Stati Uniti che hanno potuto nel XVIII e XIX secolo avviare una straordinaria rivoluzione industriale. Quanto abbia utilizzato la Gran Bretagna, la capacità marittima per ampliare e far diventare strategica un paese che aveva pochissime risorse, e come la Francia in qualche maniera, guardando nel versante sud del Mediterraneo, nell'Africa più profonda, abbia trovato quello che gli necessitava per diventare un impero, ma la stessa Germania con gli imperi centrali. Quindi la geografia è sempre stata, è diventato tolti dopo l'interesse, un aspetto centrale. Io sono qui e questo è il mio luogo di riferimento. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo scoperto tutti la geopolitica, quindi l'appartenenza a un ambito non necessariamente correlato a una fisicità di nazione, ma a una serie di interessi e la ragione per la quale noi siamo stati per vent'anni in Afghanistan, per quanto l'Afghanistan non sia confinante con Trieste o con Ventimiglia, ma perché l'Afghanistan rientrava all'interno degli interessi geopolitici del nostro paese. Questo vuol dire sostanzialmente, in poche parole, onorevoli deputati, che se tu appartenevi a un club, era lo club, ti facevano stare nel club lo stesso, cioè non era necessario avere il Leopard 2 o l'Abrams per stare all'interno della Nato, potevi anche avere il Leopard 1, perché all'interno di quel quadro tu avevi una tua utilità. Tutto questo, interessi, geografia, geopolitica, sono stati spazzati via Presidente e lo saranno definitivamente nell'arco di cinque anni. Cinque anni signori è questo, un attimo, perché il driver del futuro è la tecnologia. Vedete noi stiamo acquistando dei sistemi modernissimi, ma concettualmente in qualche maniera già vecchi, come l'F-35, non che l'F-35 non vada bene, ci mancherebbe ancora, ma sono mezzi che ci permetteranno di cooperare insieme alle altre forze alleate, cosiddetta interoperabilità, come la chiamano quelli dotti. Ebbene, questi aerei nel futuro non avranno più senso, non gli F-35, ma il concetto dell'F-35, o di radar, o di missili che fanno attività cooperativa, come la, speriamo presto di avere un ombrello di difesa missilistica con la nostra, con la nostra Marina Milita. Perché? Perché ormai la tecnologia dirà o operiamo come un'unica entità, un'unica entità, o sei completamente fuori. Questo è il, il punto fondamentale, è che fra poco a dire chi sta attorno al tavolo, non saranno più gli interessi, non sarà più la posizione geografica, non sarà più un interesse geopolitico. Fra poco intendo dire, onorevole, dopo domani, perché se vediamo gli investimenti, io ovviamente parlo di investimenti europei, non mi sento di parlare di investimenti di Cina o Stati Uniti, perché sarebbe poco galvato nei confronti di chi sta al MEF. Ma il futuro è l'integrazione totale dei sistemi, passare dall'internet of things all'internet of military things. E anche questo noi dobbiamo avere il coraggio di dire che forse dovremmo anche un po' scuotere l'albero dell'industria, perché forse anche l'industria dovrebbe recuperare quella capacità di immaginare che aveva qualche anno fa. E non soltanto dare quello che noi gli chiediamo, perché quello che noi chiediamo forse non è giusto che ce lo diano, perché quello che chiediamo forse è anche sbagliato, perché è vecchio. Allora, quello che vorrei, e qua ho davvero concluso, sottolineare è che noi siamo di fronte a un bivio. Le nostre forze armate che con tanta capacità operano, pensiamo soltanto al fatto che noi abbiamo avuto, fortunatamente, pur nella disgrazia un numero di caduti diversi da altre nazioni, non è perché i nostri siano stati impegnati di meno, ma perché, per esempio, se uno vede un soldato nell'esercito italiano e lo compara con un soldato e un altro esercito europeo, non facciamo paragoni, non diciamo le nazioni, ma è sconfortante. Fortunatamente abbiamo un sistema che funziona. Ma questo sistema che funziona, signore, è destinato a morire. Completamente. Ed è destinato a morire anche l'approccio politico a tutto questo. O tu sei in grado di integrarti come plug-in in maniera totalizzante in un sistema di alleanze che possono essere strutturate o non strutturate, quindi non portare il tuo valore aggiunto, no, no, l'integrazione massiccia, l'integrazione totale, se noi non avremo questa capacità che richiede non soltanto un... fatemi utilizzare una frase che purtroppo si utilizza spesso e ve ne chiedo venia... se non avremo un cambio di paradigma nell'approccio all'acquisizione dei sistemi, all'approccio dottrinale di quali dovranno essere le forze armate del passato, noi avremo le migliori forze armate al mondo per fare qualcosa che non serve più a nessuno. E questo renderebbe il peso del nostro paese assolutamente irrilevante. Io credo che le assunzioni, sono sicuro che le nostre forze armate questo lo sappiano, sono certo che voi avete la sensibilità per spingere questa cosa, però bisogna rendersi conto, Presidente, che la tecnologia è così veloce che i tempi che noi siamo abituati ad avere questa tecnologia non ce la permette più. Vedete, poche settimane fa in una battaglia al simulatore, uno strumento di intelligenza artificiale, ha battuto 5 a 0 un istruttore di volo americano. Naturalmente noi ci poniamo il problema etico, quanto possiamo derogare all'uomo man on the loop che vuole avere il controllo fino in fondo. La realtà dei fatti è che quando desidereremo vincere o desidereremo non avere perdite o semplicemente non essere sconfitti, non avremo altra possibilità che scegliere quella più veloce, quella più efficace. Perché anche recenti esperimenti hanno visto come i sistemi robotici sul campo di battaglia funzionino molto male, non perché il sistema funziona male, ma perché l'interazione costante del soldato col sistema robotico lo rallenta. Allora, per questo io ritengo che sia importante fare investimenti ora in questo settore, perché altrimenti Presidente, altrimenti onorevoli deputati, noi saremmo costretti a comprare quello che troviamo sul mercato. E quello che troviamo sul mercato non necessariamente potrà essere per forza, come posso dire, perfettamente attinente a quelli che sono gli interessi nazionali, la sovranità nazionale e il diritto ad avere tutte le chiavi di accesso. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di avervi tediato troppo. Grazie. Grazie a lei professore, grazie per la sua ampia ed esaustiva relazione anche attraverso un esclusso storico del processo tecnologico evolutivo, ma anche attraverso dei principi etici di cui si è parlato. Grazie, perché sicuramente è una relazione che dà vita a degli spunti molto interessanti per i commissari che sono impegnati nell'indagine conoscitiva in oggetto. Chiedo ai colleghi se intendono intervenire, il collega Frailis, prego. Grazie, grazie presidente. Io vorrei esprimere il mio ringraziamento al professor Margelletti per la sua relazione, la sua presenza per questo pomeriggio da noi, anche perché ha introdotto degli spunti di grande interesse, soprattutto per quel che riguarda due paradigmi, per così dire. Lei ha parlato di futuro, professore, ma soprattutto ha parlato di tempi che non sono più compatibili con i nostri comportamenti che sono stati in passato. Ora, io le chiedo questo. La nostra commissione ha sempre stata, almeno per quel che ricordo io, una commissione dove il confronto è stato ampio e l'unità anche, la coesione anche tra le diverse forze politiche. Lei ha detto che bisogna fare alla svelta, soprattutto perché una revisione profonda dello strumento militare si impone perché questo strumento militare sia al passo che non i tempi, è anche detto che bisogna scuotere l'albero delle industrie militari. Io le chiedo, il governo attuale, che è un governo di larga coalizione, ha detto fin da subito che la prospettiva è quella di un atlantismo, di un multilateralismo, quindi da questo punto di vista non abbiamo niente da temere. Però io le chiedo, siccome ci sono sensibilità diverse all'interno di questo governo, il fatto che queste sensibilità diverse si manifestino in taluni aspetti e non soltanto negli aspetti della difesa, può essere un problema per quei tempi da rispettare. Grazie. Facciamo un giro di intervento. Grazie onorevole Frailis. L'onorevole Frusone, prego. Io innanzitutto per ringraziare il professore che oggi ci ha tenuto qui incollati alle sedie. persone. Io sono praticamente d'accordo con tutto quello che ha detto, perché questo problema, in realtà anche qui in Commissione abbiamo sollevato più volte, non solo per le tempistiche con cui alcune volte arrivano alcuni atti del governo, ma anche proprio per i concetti che questi atti alcune volte portano, di poter approvare qualcosa che sia già vecchio. Questo è un problema di cui ne siamo consapevoli. Però credo che in realtà la situazione sia ancora più complessa, nel senso che, e non voglio difendere il decisore politico, ma non solo nei prossimi dieci anni, ma anche forse per più tempo avremo una convivenza fra le esigenze del futuro, che quindi fra dieci, quindici anni diventeranno presente, e le esigenze del presente che però non diventeranno passato del tutto. Nel senso che, come ho detto, concordo con tutto l'aspetto quando lei ha parlato di Cina, quando ha parlato di Cyber, quando ha parlato di Subacquea con i cavi sottomarini, difficilmente qualcuno può essere in contrasto con queste idee. Però al tempo stesso noi vediamo come il nostro paese stesso abbia delle esigenze che potremmo definire classiche, cioè come la questione del Nord Africa, dove l'aspetto tecnologico si fa sentire di meno. Certo, come diceva prima, pilotaggio remoto e altri tipi di tecnologie aiutano. Però ancora, per risolvere determinate questioni, forse dobbiamo utilizzare ancora i vecchi strumenti della diplomazia e del... non che dobbiamo andare domani con gli scarponi sul terreno, però dove la presenza umana è ancora molto importante. Quindi noi ci ritroveremo, mi metto nei panni del decisore politico, cioè quindi i pensieri che ho magari la sera, a dover da una parte rincorrere il futuro e non farci trovare impreparati, ma allo stesso tempo ci vengono sottoposte delle richieste che ovviamente drenano delle risorse a quell'aspetto del futuro che lei ha in maniera egregia spiegato. E quindi ci sarà un grosso problema dovuto sia un pochino alle risorse che vengono messe in campo, sia a questa doppia avversità contemporanea, anche se stiamo parlando del futuro. E quindi la possibilità, non dico di fare la scelta sbagliata, perché magari non ci sono nemmeno scelte sbagliate, ma non fare tutte le scelte giuste, che è diverso dal fare la scelta sbagliata, ecco questo rischio lo vedo importante insomma. Quindi se possiamo approfondire. Grazie. Grazie a lei, onorevole Fusone, ha chiesto di intervenire l'onorevole Ferrari. Prego collega. La ringrazio Presidente, anch'io mi associo ai ringraziamenti dei colleghi, al professor Mergelletti per davvero l'importante contributo che oggi ha portato a questa commissione. Mi allaccio ad alcuni elementi che ha toccato durante la sua relazione e sono quello sostanzialmente su cui si fonda poi anche tutto il suo ragionamento circa l'orientamento allo sviluppo della tecnologia, cioè quello di non poter la nostra società più sopportare il numero di perdite che in un conflitto convenzionale sarebbero state come dire accettabili fino ancora penso 50 anni fa o poco o poco più. I numeri del recente conflitto in Afghanistan, le vittime degli Stati Uniti, per non dire le vittime del nostro contingente, paragonate appunto a un'epoca passata, probabilmente erano le vittime di un solo scontro o poche ore di uno scontro del passato. E quindi da qui l'orientamento a investire sulla tecnologia, sulla strumentazione che preveda o il controllo remoto da parte del soldato oppure come ha ventilato poi nella parte conclusiva del suo intervento, addirittura concedere, se si vorrà prevalere rispetto a quelli che sono le forze avversarie, concedere totalmente un'autonomia all'intelligenza artificiale di operare scelte operative sul terreno. Quindi un po' questo ragionamento sinceramente inquieta, senza rievocare filmografia anche apocalittica, Armageddon ed altre situazioni per cui è un poco inquieta. Però prima di arrivare lì, voglio dire, il nostro paese per poter competere a livello internazionale, l'ha detto lei, non vuole scomodare i colleghi del MEF, ma le risorse deve mettercele per investire direttamente attraverso la propria industria, un'industria nazionale che fortunatamente ad oggi è ancora un'industria che può competere sui mercati internazionali, ma l'altro elemento che ha sottolineato, il tempo vola, il tempo è uno schioccare di dita. Ecco, noi abbiamo risorse destinate agli investimenti e destinate anche alla parte addestrativa molto limitate rispetto alla parte complessiva. Il famoso rapporto non è rispettato rispetto alle risorse messe per il personale. Questa commissione, oltre a fare questa indagine conoscitiva, è anche all'inizio della trattazione di una proposta di legge che ha nel suo oggetto, da una parte, la revisione dello strumento militare, quindi la revisione della 244 nei propri numeri, dall'altra parte lo strumento del reclutamento, al focus quindi sul soldato, sull'uomo. La direzione era quella di dire che probabilmente con questi numeri attuali, quelli disegnati dalla 244, non siamo in grado di fare tutto quello che ad oggi magari la politica chiede di partecipazione nei contesti internazionali. Le chiedo quindi una sua valutazione sul fatto se il ragionamento di andare ancora in questa direzione può essere un ragionamento corretto e di converso, se nel caso in cui dicessimo possiamo ridurre i numeri del personale, però abbiamo la capacità e la forza di investire le risorse necessarie per colmare poi quello che è il vuoto che si crea con la tecnologia. Grazie a lei, onorevole Ferrari, ha chiesto di intervenire l'onorevole Tripodi. Prego, collega. Grazie presidente, ringrazio anch'io il professor Margilletti per l'esaustiva relazione che ha presentato a questa commissione. In realtà mi vorrei soffermare su due cose, una che riguarda la nostra politica estera e l'altra che riguarda l'industria nazionale della difesa e gliele riassumo facendogliene una sola di domanda, cioè secondo lei il peso dell'industria nazionale della difesa che ricadute può avere sulla politica estera in un frangente nel quale c'è un grande movimento, una grande evoluzione in quello che è definito il Mediterraneo allargato. La ringrazio. Grazie, onorevole Tripodi. Chiedo se vi siano altri colleghi che intendano intervenire, anche da remoto. No? Do dunque la parola al nostro ospite per la replica. Prego, professor. Tutte ottime domande, io lo dico sempre ai miei studenti, non ci sono pessime domande, ci sono soltanto risposte inadeguate, spero che le mie non lo siano. Allora, onorevole Faria, se io l'anno scorso mi sono, proprio in questi giorni, mi sono sposato e pochi mesi dopo ho organizzato insieme a mia moglie il mio funerale, perché il Covid mi aveva portato a organizzare il mio funerale. Quindi le posso assicurare che non esiste nessuno in questa stanza che più di me creda nel futuro. Quindi il futuro è assolutamente determinante. Io ci credo e mi creda, io non sto più vivendo, io non vivo più il presente, io già mi vivo il mio futuro. Ora, io ho il privilegio di servire il Ministero della Difesa da diversi anni. Attualmente sono il consigliere del Ministro Guerini, che è un uomo per bene, sembra una cosa scontata, penso così, non lo è più. Ora, le diverse sensibilità. Noi abbiamo un problema onorevole derivante non dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un problema preunitario. Si ricordi che Cavour mandò i bersaglieri in Crimea, ma dicendo che non si faccia male a nessuno. Le eroe erano le regole di ingaggio, erano già un problema allora. E spesso la politica sceglie la strada in Italia del multilateralismo per non assumersi delle proprie responsabilità. dice allora, se non possiamo andare tutti insieme in gita, non andiamo in gita. No, se io ho le risorse un weekend, ho la macchina col pieno di benzina, vado in gita lo stesso. Io non sono un sovranista come moltissano, un vecchio liberale, ma mi considero assolutamente un patriota e credo che questa vecchia parola non ci sia nulla di male. Ecco, essere un patriota non vuol dire che però voglio giocare la partita soltanto del mio amato tricolore, ma sapere più o meno da che parte stiamo. Non da che parte stiamo perché è sempre stata così. La politica è l'arte del possibile, per quale ragione dobbiamo essere per forza sempre con uno e non spostarci. Ma oggettivamente la Nato e l'Unione Europea rappresentano per noi una casa. Questo non vuol dire che non si possa su alcuni aspetti cercare di cogliere opportunità da altre parti, ma sono opportunità, onorevole. Non è un matrimonio. Questo è uno dei problemi più complessi, ma ripeto, anche in questo caso, quando siete pienamente consci e protagonisti, è quello della difficoltà del dibattito sull'interesse nazionale. L'interesse nazionale non è del governo Draghi o del governo Conte, uno o due o dei mille governi che poi verranno negli anni a venire. L'interesse nazionale è a parte il governo. Il governo che c'è in carica sceglie una strada per arrivare all'interesse nazionale che non è necessariamente condivisa dall'opposizione, ma sempre quello è l'obiettivo finale. Noi abbiamo un po' di problemi su qual è l'individuazione dell'interesse nazionale. Io credo che, fermo restando che il nostro mondo è un mondo occidentale, tant'è vero che io ho parlato del fatto che ritengo che noi dovremmo fare una riflessione su avere una presenza militare fissa, in particolare immagino io della Marina, nel Pacifico, perché il conflitto futuro sarà quello della Cina, perché a noi ci può piacere o non può piacere, ma indiscutibilmente prima o poi tra Stati Uniti e Cina si arriverà a uno scontro fisico, cinetico, perché gli imperi, tra virgolette, non se ne vanno in punta di piedi come Gloria Swanson sul Viale del Tramonto. Non mi pare che gli Stati Uniti siano intenzionati in quella che è la loro area del benessere, cioè l'area Asia-Pacifico, Indo-Pacifica come la chiamano strategicamente gli americani, a cedere completamente tutto alla Cina. Quindi questo non vuol dire che non si debba fare business, non vuol dire che bisogna essere come posso dire, avere un atteggiamento da mormoni, con tutto rispetto ai mormoni, essere chiusi di fronte al, alle, a tradizioni del dialogo nazionale. Però è bene, è bene che ci chiariamo. Anche cose evidenti, atti di cronaca, i russi in Italia non vengono da amici, ma noi non andiamo in Russia da amici dall'altra parte, cioè quello che è successo nella vicenda dell'ospiraggio è un fatto assolutamente normale, che non ci deve stupire, ovviamente. E lo fanno i cinesi, ma lo facciamo anche noi nei paesi dove abbiamo le risorse, le capacità e le opportunità per farlo. Il nostro mondo è un mondo occidentale, questo non vuol dire che non si debba avere un dialogo con la Russia, non vuol dire che non si debba avere un dialogo con la Cina, accidenti, se occorre averlo, ma all'interno di un perimetro non di quello che ci dicono di fare perché sono i nostri alleati, ma di quello che noi siamo. Spero di avere risposto alla domanda. Allora, onorevole Frusone, io all'inizio proprio avevo detto che noi ci troviamo di fronte in Italia a un doppio avversario, quello di altissima tecnologia, cioè il two-peer-two-peer, cioè dotarsi di forze e risorse che siano in grado di affrontare sviluppi tecnologici velocissimi e molto aggressivi e sono quello della conflittualità, dei rischi di conflittualità con nazioni importanti. Ricordiamoci che quello che ha fatto la Russia in Siria, le capacità che ha espresso all'inizio, noi come Nato ce le siamo dimenticate e quindi dobbiamo anche renderci conto che stiamo affrontando qualcuno che non è soltanto addestrato ma che le cose le fa. Le cose le fa. E dall'altra parte dicevo che il futuro della criticità, a mio avviso parlo a nome naturalmente non del ministro Guerini ma come presi io sono qui come presidente del centro studi internazionali, è quello dell'Africa subsahariana, sulla quale io, fossi voi, non dormirei alla notte, perché vi posso assicurare che la questione migratoria è neanche la punta dell'iceberg. L'iceberg è infinito, è enorme. E allora dicevo che noi abbiamo bisogno di un mix di forze che non è derivanti dal concetto di forze leggere, forze pesanti, forze medie, forze intermedie e quanto altro, ma sono forze che devono essere ritagliate su quella che è la mission. Cioè noi dobbiamo definire quali sono gli interessi nazionali e allora a questo punto le forze armate disegneranno, faranno quello che gli inglesi chiamano lo shaping delle forze, perché questo è, perché noi ci troveremo, voi possiamo anche far finta di dimenticarci dell'Africa subsahariana, ma nell'Africa subsahariana noi dovremmo andare, ci vuole piacere, ci vuole non piacere, ma quello è il futuro e ci deve andare con le persone, perché in quel contesto quello che conta non è la distruzione dell'ecosistema digitale dell'avversario, ma è creare empatia con le persone che vivono in slums di quindici milioni di abitanti e far sì che queste persone possano immaginare un futuro diverso. Quindi io ritengo che noi dovremmo avere uno strumento militare da Giano Bifronti in una qualche maniera, cioè una componente estremamente tecnologizzata e una componente mista anche, perché gli inglesi che insomma fanno la guerra da un po' di tempo, gli inglesi in alcuni reparti delle forze armate hanno iniezioni di civili, non militarizzati, non con l'uniforme, ma civili che gli danno per esempio sulla brigata che si occupa di Information Warfare o PSYOP, come si dice, che gli danno un'expertise diversa, perché guardi le cose da un altro punto di vista. Allora noi dovremmo per tutto immaginare quali sono i nostri interessi, ma soprattutto immaginare che gli strumenti che noi adesso abbiamo forse sono strumenti che stanno diventando molto rapidamente obsoleti. Non come mezzo che è entrato in servizio l'altro ieri e il carro armato è nuovo, ma è il concetto che ha portato a quel mezzo. Quindi le risorse, io sono genovese, le risorse non sono mai abbastanza, è anche vero che però le risorse le decidete voi. Allora, se noi non vogliamo trovarci in una situazione dove mentre prima eravamo accettati al tavolo perché avevamo interessi comuni, posizioni geografiche affini e geopoliticamente coerenti, adesso il rischio è che ci dicano no grazie, non vi vogliamo. Il non essere presente a determinati tavoli ha una ricaduta, signori, non sull'industria della difesa che è di grande capacità, non sulle forze armate, ma una diretta ricaduta sul mondo del lavoro. Perché sarebbe il caso di discutere, mi auguro ci sia un'occasione, dell'implementazione dei rapporti tra i cluster industriali nelle varie ragioni d'Italia e l'industria della difesa, per avere un'interazione maggiore tra coloro che pensano, immaginano e coloro che fanno grande produzione. Che noi dobbiamo anche porci il problema del lavoro che non può essere soltanto risolto diciamo con modalità di tamponi. Ma dobbiamo immaginare che ci sia uno sviluppo economico dietro la ricerca. La ricerca militare ha portato a questo, signori. Questa è una penna sfera. La penna sfera è stata inventata per distruggere con maggiore efficacia la Germania. Perché i bombardieri americani e britannici non erano pressurizzati e quindi le penne, le stilografiche, si perdevano, perdevano inchiostro e macchiavano le mappe dei navigatori che non sapevano dire al pilota dove andare a bombardare. Quindi non esiste il duale, esiste la tecnologia. Si è fatto un discorso negli ultimi anni sul duale sul quale la mia posizione è nota e non la vorrei ribadire. Io credo che esista la tecnologia e l'applicazione della tecnologia a una serie di settori. Noi abbiamo bisogno di più risorse ma questo credetemi signori è solo una parte perché negli anni abbiamo anche speso tanto male i soldi. Allora se noi definiamo prima di tutto che cosa vogliamo fare e poi ci taschiamo una serie di risorse questo secondo me ci permetterà onorevole Frusone di rimanere al tavolo altrimenti signori li vedremo da lontano. Allora l'ultima domanda è quella dell'onorevole Tripodi. Il peso dell'industria è riconosciuto in politica estera. Io credo che se vendi conti, io credo che la Coca Cola sia una grande azienda perché vende una valangata di bottigliette e credo anche che quello che si compra nel supermercato e credo anche che sia una cosa anche di altissima qualità nel banco del supermercato. Noi non la vediamo, non la compriamo per la semplice ragione che non ne conosciamo l'entità, l'esistenza. Ora l'industria nazionale, non l'industria difesa, l'industria nazionale per lunga e considerata, penso anche all'automotive, per lunga e considerata tradizione è molto, molto, molto italiana. Cioè molto legata al cliente nazionale, poi magari si diventica di essere italiana e porta le sedi all'estero perché per altre ragioni. Ma io credo che se noi avremo, utilizzeremo come strumento politico, come strumento politico l'industria della difesa che ripeto è tecnologia, è PIL, non è schioppi, coltelli e bombe a mano, è prodotto interno lordo, noi aiuteremo i cluster delle varie regioni, voi siete venite da tutta Italia, ad aumentare il loro livello di conoscenza e far sì che un ragazzo che ha una laurea importante non abbia, non abbia l'umiliazione di aspettare i due euro che uno gli dà sul pianerottolo perché ti ha portato la pizza come rider, perché lo trova una cosa tristissima, o che debba andare all'estero per fare qualcosa che potrebbe benissimo fare a casa sua. Credo che l'industria della difesa abbia però anche l'industria della difesa nazionale debba anche un po' scollarsi dal concetto di nasco per dare al cliente nazionale e debba essere più aggressiva come lo sono tante altre aziende aggressive e dicendo investo di più in ricerca e non perché mi avete dato solo i soldi voi, c'è bisogno che anche l'industria nazionale sia più flessibile, più veloce e investa più in se stessa, creda più in se stessa. Se noi avremo questo sicuri, signori, noi avremo un paese che continuerà a essere un paese moderno, in linea con i nostri interessi, trovandoli, ma soprattutto con quello che noi vogliamo essere. Altrimenti, signori, ripeto, il driver attuale è quello dello sviluppo tecnologico che definirà le alleanze. Se noi non avremo questo che veramente è sistema paese, dal pubblico al privato che non è importante, è fondamentale, allo Stato e alla politica, se noi non avremo questo, signori, la posizione geopolitica italiana, la posizione geografica italiana, la posizione degli interessi italiani, diventeranno assolutamente irrilevanti sullo scenario internazionale. Grazie. Grazie, io non ho altre richieste di intervento, pertanto rinnovo i ringraziamenti al professor Margieletti. Scusate, mi sottolineano che investire in tecnologia per sistemi a mano e per colmare il gap di personale, e l'Alzheimer ormai ha fatto i danni rilevantissimi. Allora, noi ci dobbiamo… c'è una vecchia discussione, se è meglio avere tanti uomini poco equipaggiati o pochi uomini perfettamente equipaggiati. La vera domanda è, come le navi, una nave non può essere ovunque. Allora, noi non possiamo scegliere di essere in tutti i mari del mondo, difendere i nostri interessi, se non diamo alla Marina il sufficiente numero di navi, o il sufficiente numero di velivoli all'aeronautica per coprire quelli che sono gli interessi. Per quanto riguarda la sua domanda, io non credo che i sistemi a manned vadano a coprire buchi di personale. Credo che i sistemi a manned, terrestri, aerei e navali, possano fare cose che le persone non fanno. E possano ricoprire o ruoli che in questo momento sono scoperti, magari, o che non sono ancora previsti e che possiamo, grazie al livello tecnologico, immaginare di poter avere. Per quanto riguarda ai numeri, io non credo che esista. Io ero consigliere del ministro della difesa Gian Paolo Di Paola durante la riforma di Paola. Io non credo che ci sia un numero giusto. 100.000, 200.000, 500.000, un milione di persone. Credo che il numero giusto sia in base a quello che noi gli chiediamo di fare. È ovvio che se noi alle forze armate chiediamo di fare le missioni, evito di parlare a missioni della difesa della patria perché non arriva nessuno a soglie rigorizie, è ormai aperta. Ma se noi chiediamo all'esercito di fare da esercito, cito l'esercito per citarne naturalmente una forza armata per tutti, da esercito, da protezione civile, da sistema sanitario alternativo, cioè pulire le strade, fare la difesa della città con strade sicure. Se noi chiediamo a una forza armata di fare quello per le quali esistono e sono pagate anche altre realtà, la forza armata dire che ho bisogno di molte più persone e molto più risorse. Io non credo che il problema sia se l'esercito debba raccogliere i rifiuti o lavorare nella terra dei fuochi, credo che a farlo debbano essere quelli che sono pagati per farlo, che non è l'esercito italiano. Allora il problema non è se l'esercito è in grado di farlo, il problema è che facciamo lavorare e quelli per i quali noi abbiamo fatto investimenti perché lo facciano. Allora io personalmente ritengo che sarebbe opportuno avere un numero di unità perfettamente organizzate, perfettamente pronte per operare. Se invece quello che è il problema è la massa, allora dobbiamo accettare il fatto che ci siano unità non perfettamente, come posso dire, equipaggiate per tutto il full spectrum of operation. Il punto non solo tanto le risorse, il punto vero, ripeto, è che noi dovremmo fare un ragionamento su quello a cui, quello che il Parlamento, quello che il Paese chiede alle forze armate. Non si può chiedere alle forze armate di difendere l'ultima barca di pescatori se non hanno le navi, come posso dire, per farlo, perché altrimenti siamo costretti a pandare delle navi che sono sovradimensionate e che hanno dei costi di gestione infinite. Allora, la vera domanda è, le forze armate italiane, voi avete deciso che cosa gli volete far fare? E qua non le chiedo una risposta, ma ripeto, l'opportunità dell'ammaned è un'opportunità di cose che, di compiti ulteriori. Non credo che, io francamente non mi sentirei serenissimo con dei carri armati remoti che mi passano sotto casa, quindi sono più felice se vedo i miei amati carabinieri o le forze armate. Credo che il punto fondamentale sia quello che noi dovremmo decidere che cosa deve fare il Paese, quali sono i livelli di ambizioni e allora a quel punto scegliamo i numeri. Grazie. Bene, grazie. Io non ho altre richieste di intervento, pertanto rinnovo il ringraziamento al professor Margelletti per il contributo, per la disponibilità. Saluto e ringrazio anche la dottoressa Volil e il dottor Barberini e tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie. Grazie.